Eccellenza, qual è il significato della partecipazione della Saudi Arabia al Tempo di Libri? Qual è il significato della partecipazione della Saudi Arabia al Tempo di Libri? Qual è il significato della partecipazione della Saudi Arabia al Tempo di Libri? Qual è il significato della partecipazione della Italia al Tempo di Libri? Qual è la partecipazione della cultura umanista? Qual è la partecipazione della cultura umanista? Qual è il significato della cultura umanista? la caratterizzata e la salita per la parte che siamo in l'Arabia Saudita abbiamo una città che abbiamo una città che abbiamo una città che ci sia che sia una relazione con l'Arabia e anche la comunicazione con l'Arabia Saudita e l'Arabia Saudita che hanno una città che hanno un'amontità di un'amontità che è un'amontità del Th highways e anche la città e anche la città è un'amontità che è un'amontità per la città e anche la città è un'amontità che è un'amontità che rilassa la città e siamo tutti d'accordo che abbiamo una città per difondare la pace e l'amore e l'amore che è un'amontità nel'umantità in general Parliamo di turismo. L'Italia è molto forte nel settore turistico. Io so che l'Arabia Saudita ha un programma di sviluppo e di incremento dei visti turistici. Qual è l'obiettivo che ci si pone per il 2020, per esempio? L'Arabia Saudita è molto importante nel settore dell'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita è la cooperazione dell'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita è un gruppo di scienziati italiani. 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 e il risultato di questa dichiarazione per le donne è il delitto che è la possibilità di ammigliare la città di Saudita per la città dell'Italia. Riflettere sul ruolo della donna nella società saudita è anche un obiettivo della cultura saudita. Il senso della nostra presenza in questo splendido appuntamento della Fiera del Libro di Milano. Siamo orgogliosi di presentare questa conferenza sulla donna saudita presente e futuro con la professoressa che illustrerà gli aspetti letterari e le opere che lei si occupa, la professoressa Isabella Camerada Flitto, docente della lingua e letteratura araba presso la Sapienza di Roma. Intanto allora buongiorno, io vorrei intanto ringraziare l'ufficio culturale saudita a Roma e il dottor Nagrivi che mi ha invitato a parlare. Io in effetti insegno letteratura araba moderna e contemporanea alla Sapienza e da molti anni mi sono dedicata, mi interesso soprattutto alla letteratura femminile e non si può fare a meno di interessarsi e di parlare anche della letteratura saudita. Anche al pubblico arabo, agli egiziani, ai libanesi non c'era una produzione degna di grande interesse e nel giro degli ultimi 20-30 anni, 20 anni praticamente, e con un sempre maggiore incremento di numero di scrittori e di libri pubblicati, noi vediamo che oggi la produzione letteraria dell'Arabia Saudita è all'avanguardia di tutto il mondo arabo. pensate che ci sono dei premi letterari, uno dei più famosi, il Booker, del Booker arabo, che si rifà naturalmente al Booker americano ma è una sezione del Booker arabo e negli ultimi 10 anni, in 10 anni di edizione del Booker, ben 4 premi sono andati ad autori sauditi. Tutto questo è una cosa assolutamente impensabile e allora c'è anche da chiedere ma cosa scrivono, come mai sono così all'avanguardia, cosa che ha meravigliato e non dico disturbato ma ha meravigliato anche gli stessi autori arabi, i romanzi, i racconti, ma soprattutto i racconti di cui si parla per esempio in questo libro, Le rose d'Arabia, sono racconti che affrontano temi molto, in qualche caso anche potremmo dire un po' spregiudicati, che non ci si aspetta da una scrittura di donne, soprattutto di un paese in cui soprattutto 20 anni fa c'erano molte più restrizioni di quelle che ci sono oggi, ancora il paese non si può dire che è libero completamente come pensiamo noi, però ci sono stati fatti dei passi avanti molto importanti e la letteratura aiuta, aiuta sicuramente perché le donne leggono e c'è anche un fatto interessante che vi potrei raccontare, quando sono andata nell'Abbia Sodita, appunto la prima volta nel 98 e poi nel 99, nel 99 è la seconda volta che sono andata, trovai nell'albergo dove alloggiavo un dattilo scritto da parte di alcune scrittrici, avevo avuto il modo di conoscere dei circoli letterari, ero stata molto fortunata perché avevo avuto modo di conoscere le più grandi scrittrici che oggi sono ancora all'avanguardia, Badria al-Besher, Raja Alem e grazie a loro, insomma si era risaputo, almeno sia a Riad che a Jedda, che c'era un'italiana che cercava testi letterari e poi mi sono arrivati appunto dei racconti che abbiamo, che ho tradotto, che ho fatto tradurre e che abbiamo tradotto. Dunque nell'albergo, io tornando in albergo trovai un dattilo scritto in una busta, era il romanzo di una tale, Layla Giorni. Layla Giorni o Giorni, ho visto che è traslitterato in dieci modi diversi negli stessi libri, quindi è un po' diverso. Comunque avevo scritto un romanzo molto interessante che si chiamava Firdaus Eliab, che potremmo tradurre con il paradiso desolato, il paradiso perduto, che fa ripensare quindi a un altro paradiso più noto, paradiso perduto più noto della nostra, della letteratura mondiale. Bene, questo romanzo non era stato pubblicato, stampato in Arabia Saudita, ma in un altro paese e circolava con una, all'epoca, circolava con una certa difficoltà tra, però le donne ci tenevano a leggerlo, a farlo leggere, anche ci tenevano che io lo portassi in Italia. Cosa che ho fatto, poi il romanzo fu tradotto e l'abbiamo pubblicato per la casa editrice Elisso, una casa editrice della Sardegna che aveva una collana dedicata agli scrittori arabi contemporanei e poi questo libro ha avuto un certo successo, ma la cosa interessante è che la scrittrice, malgrado toccassi argomenti tipo l'aborto, il suicidio, la libertà dei rapporti sessuali tra giovani, magari toccassi questi argomenti, in qualche modo era stata, come dire, riconosciuta come grande scrittrice e il suo libro non circolava ufficialmente in Arabia Saudita, ma tutti l'avevano letto, insomma. Oggi per esempio tutto questo, anche questa sorta di censura che forse si sentiva molto nel paese in passato, oggi tutto questo non c'è, non c'è perché c'è un'apertura che noi dobbiamo vedere, noi non possiamo limitarci a criticare o a vedere le cose che non sono esattamente come vogliamo noi, ma ci sono paesi che hanno i loro tempi, le loro tradizioni e tutto questo va rispettato e va accompagnato, però quello che io penso e sono sicura che la produzione letteraria può aiutare queste donne a liberarsi. Oggi poi una censura tipo quella, appunto, un modo di far uscire e di far conoscere i racconti è anacronistico perché pensate soltanto al ruolo svolto da internet, basta fare un click e il libro si manda in tutto il mondo, la traduzione si copia, si fa, mentre allora facevamo ancora le fotocopie, quindi erano tempi veramente diversi. Ma di che cosa parlano? Per esempio ci sono scrittrici che all'epoca non potevano usare il loro nome o non era, non volevano, si sentivano più libere nell'usare pseudonimi. Noi abbiamo il caso di una scrittrice Warda Abdelmalek o Di Sabalherz che hanno scritto con degli pseudonimi perché appunto trattavano argomenti che in qualche modo potevano sembrare scabrosi per la società saudita, forse a noi non sempre perché siamo abituati ad essere ancora più avanti, ma più avanti non necessariamente in senso positivo. Però ci sono anche appunto tante altre scrittrici come Badri al-Bescher che scrive con il proprio nome e ha scritto un romanzo pubblicato in Italia che si chiama Hind Walaskar in arabo, ma in italiano l'editore ha scritto Profumo di caffè di cardamomo perché così faceva un po' più esotico. Quindi pensate che noi quando proponiamo, noi in Italia, quando proponiamo un romanzo arabo dobbiamo sempre trovare un escamotage per attirare il lettore e quindi ripetere una immagine stereotipa che il lettore cerca in effetti. Quindi Hind e il militare non avrebbe, il soldato non avrebbe avuto nessun effetto mentre Profumo di caffè di cardamomo suona meglio per l'editore. Questo romanzo è interessante perché è una critica non solo a certi atteggiamenti, che è una società misogina che non lascia la donna libera totalmente in molte espressioni, molte espressioni della vita contemporanea. Ma la cosa interessante è anche la critica, che forse è ancora più forte, alle donne stesse che subiscono, che hanno accettato soprattutto in passato certe regole senza protestare e come anche la poligamia e altri argomenti di questo genere, che le donne affrontano con molta chiarezza e forse a noi ci può sorprendere, ma veramente senza nessuna sorta di freni. Io ora dico ancora solo qualcosa, poi se ci sono delle domande sarò contenta di rispondere. L'altro romanzo e l'altra autrice di cui bisogna parlare assolutamente Raja Alem, che è appunto una del vincitrice del... Raja Alem, scriva così, come sente? Raja Alem, sì. Con la J, sì, in Italia l'abbiamo scritta con la J, però l'italiano quando sente la J dice pure Raja, perché per noi la J, quindi comunque il suono suona Raja Alem. Quelle di prima forse Badria Al-Bisher, Badria Al-Bisher, e le dico anche... Bisher, sì, come è scritto. Il problema è l'arabo, non ha le vocali brevi, per cui alle volte si sente, come ho detto prima, J, per loro J, insomma non è semplice, ecco, perché se un nome già uno lo conosce. Comunque, comunque, se in questo libro, Rose da rabbia, potete trovare i nomi di queste scrittrici. E per ora ho dimenticato che stavo dicendo. Ah sì, l'altro nome appunto è Raja Alem, scrittrice che ha vinto il Booker tre anni fa, quattro anni fa. Scrittrice molto interessante, forse la più grande scrittrice saudita del momento. E ha pubblicato in Italia, abbiamo due romanzi pubblicati di Raja Alem. Uno si chiama Il collare e la colomba, ed edito da Marsilio. Aspetto che scrive. E l'altro è Khatem. Khatem è ora scritto K-H-A-T-I. Khatem o Khatim? Non so come l'hanno scritto con la cassera o no? Khatim. È il nome della protagonista, che è una bambina, infatti il sottotitolo è una bambina da rabbia, che poi è la storia di una bambina ermafrodita, quindi che scopre la propria natura e anche la propria ambiguità verso l'altro sesso. E sono libri, come vedete, che trattano argomenti interessanti, no? Quindi se noi abbiamo l'idea di un paese bigotto, di un paese talmente chiuso, vediamo che la letteratura no, ci fa cambiare assolutamente idea, come anche racconti pubblicati da noi vent'anni fa, quindi scritti alla fine del Novecento, che trattano argomento dove si parla chiaramente della poligamia, si denunciano certi comportamenti misogini, si denuncia il fatto di non poter essere liberi di andare a lavorare, ma di essere in qualche modo, come dire, costretti a essere accompagnati dagli autisti, però noi ora sappiamo che c'è una legge che sarà modificata, no? Che è stata proposta dal re per consentire alle donne di guidare, per noi questa cosa naturalmente ci sta molto a cuore e so che anche entro giugno ci saranno i provvedimenti poi attuativi, perché ancora quindi la legge non è resa, ma di questo, di come cambia la società, magari parleranno le nostre amiche che appunto vengono dall'Arabia Saudita, io per quello che mi riguarda vi dico, la produzione dell'Arabia Saudita, la produzione letteraria oggi non può essere non studiata ma anche in una facoltà dove si studiano studi arabi, dove si studiano studi letterari, la produzione dell'Arabia Saudita deve essere oggi presa in considerazione, così come la produzione degli altri paesi arabi nel Nord Africa e nel Medio Oriente. Con noi non manca la testimonianza e la presenza delle nostre studentesse saudite in Italia, c'è la dottoressa Rawan Shehbaz e la dottoressa Arqassus Razan e la dottoressa Nujud Al Anbari, che parleranno anche della loro esperienza in Italia e anche della donna in generale in Arabia Saudita. So, hi, buongiorno, everyone. I'm in Jude Al Anbari and I'm doing architetura in Politecnico di Milano. I'm doing my magistrale and the common question that I get is why did you pick Italy as a place to do your magistrale? So, most of our generation likes to go to United Kingdom or USA and this type of part of the universe. So, I usually answer the question because Italy is in the Mediterranean part. So, our culture in the north, especially in the north, is an extension to the Mediterranean. Sorry, I'm just a little bit nervous since it's my first time here. So, the history overlaps. Also, here in Italy and especially in Europe, they focus on the monuments and my focus is restoration and conservation of antiques and heritage. So, that's why I picked Italy to do my magistrale. I'm Al Khobar, in the east, where I started my studies over there, which I ended up in Bahrain and now continue here in Milano. Also, I came here in Italy to complete my training course, by doing specialization, sorry for the pronunciation, here in Italy, in the field of chirurgia oculistica. I'm a field where I'm interested in the international medicine, both in terms of research and application. I'm a field where I'll pick up some interesting things from the deep history of my country, in some way as I like myself, I'm a professional. I wish to create something that can serve my country and help me. Le sviluppo. Posso anche parlare un po'? Sul tema della donna da tempo ci sono numerose ricerche in tutto il mondo, ma purtroppo molte persone danno, ascolto o leggono cose che in alcuni casi ben poco hanno a che fare con la realtà. Mi sembra, dunque, che questo è il momento giusto per rendere giustizia alla donna e onorare il suo ruolo nell'Islam e particolarmente in Arabia Saudita. Nell'ambito ruotamente lavorativo bisogna tenere conto di alcuni fattori, come lo sviluppo del concetto di parità fra uomo e donna, di complita partecipazione delle donne e l'esforzo propuso nel settore del sviluppo. Il suo interessemento è la partecipazione allo sviluppo delle relazioni e della cooperazione e delle amicizie fra i popoli. Fino dal suo ingresso nel mercato del lavoro della donna è riuscita, grazie alle sue capacità, a condividere con gli uomini molte responsabilità nell'organizzazione governativa e statale. Fra le più importanti è il suo ruolo nel settore del servizio sanitario. In tutti i settori sia scientifica che offre la ricerca, nel ruolo di medico, infermiera, farmacista, in tutto il ruolo di assistenza sanitaria e nella professione di ambito didattico e amministrativo. Sono afferrente al dipartimento di design e perciò vorrei parlarvi un po' della vita accademica della donna saudita. Adesso in Italia sto facendo il dottorato alla sapienza in architettura. Diciamo che la prima facoltà fu istituita in Arabia Saudita per le donne era nel 1970 nel capitale Riyadh e sono stati iscritti 80 studentessi lì. Ad oggi esistono all'incirca in Arabia Saudita 61 istituti, siano università private o statali o anche come collegi militari e statali. Nel 2016 le donne all'interno del corpo docente rappresentavano il 45% del totale dei docenti sauditi e nel 2017 è stata nominata la prima donna come preside di facoltà nella facoltà di medicina e quindi lei è capo sulla facoltà della facoltà maschile e la facoltà femminile. È bene ricordare qua che la vita sociale e religiosa della donna saudita ha una rilevante influenza sulla natura delle università saudite. Infatti le università saudite si suddividono in due sezioni, una riservata per le donne e l'altra riservata per gli uomini e ciò per dare alle donne una libertà e conforto maggiori. Tra due settori ci sono particolari modalità di rete per la comunicazione, per le lezioni, le riunioni e tutto quello che succede, tutti gli eventi. In Arabia Saudita esiste la più grande università al mondo riservata alle donne. È l'università della principessa Noura bint Abdelrahman, fondata nel 2008 a Riyadh, nel capitale. L'università ospita più di 60.000 studentesse e comprende al suo interno 34 diverse facoltà. La sua peculiarità è che tutti coloro che lavorano e studiano lì sono solo donne. Anche i governanti sauditi hanno molto a cuore l'istruzione delle donne e il merito più grande nell'ambito dello sviluppo della potenzialità femminile spetta senz'altro al re Abdullah bin Abdulaziz al-Saud che Dio abbia misericordia di lui. Egli ha dato alle donne numerose possibilità di istruirsi in uno spirito di ugualianza, equilibrando le possibilità offerte uomini e donne. Tali imprese sono rilevate anche al rapporto di Global Gender Gap Report del 2009, stelato dal Forum Economico Mondiale che è sopportato da Harvard e California University. L'Arabia Saudita risultava in tale rapporto al venticinquesimo posto al mondo, davanti a paesi come Stati Uniti, Francia, Svizzera e Giappone, in termini di divario tra i sessi. Anche l'epoca del re Abdullah bin Abdulaziz è stato un periodo eccezionale per moltiplicarsi di borse di studio concesse ai due sessi. E questi programmi di borse di studio coprono le tasse universitarie, il vitto, l'alloggio e consentono la possibilità di intraprendere viaggi di studio, anche sia nel paese o altri paesi. E anche il re Salman bin Abdulaziz, il re attuale, fra tre mesi sarà lanciato il tredicesimo ciclo del programma di borse di studio. Sarà il più importante nel mondo arabo e probabilmente anche a livello internazionale, rendendo l'Arabia Saudita il primo paese al mondo in termini di mobilità studentesca internazionale. In quanto vorrei ringraziare l'addetto dell'ufficio culturale, dottor Abdulaziz, perché l'ufficio culturale sta con noi e fanno tante cose per... Mi scusi, non trovo la parola, ma stanno facendo tante cose per noi come studentesse e studenti anche. La scuola secondaria è in facoltà universitaria come insegnante di geografia e ha lavorato anche nel Ministero dell'Istruzione. Prima della data stabilita del suo pensionamento, è stata costretta a chiedere un prepensionamento per accompagnarmi, restare al mio fianco, aiutarmi e sostenermi, dandomi tutto quanto le forze e le salute le permettessero, sacrificando per me la sua casa, il suo lavoro e anche una cifra del suo stipendio. Senza di lei non ce l'avrei mai fatta, non sarei arrivata a dove sono oggi e ad ottenere il livello di esperienze e di cultura che ho. Questa signora è Makia Halawani, si trova adesso qua con noi, per questo la voglio salutare e onorare davanti a voi, è la mia mamma. Senza questi grandi cuori non esisteremmo mai. Ma in realtà si sacrificano solo per percorrere noi. La nostra situazione è una situazione globale, come le femmine italiane durante i 20 anni. Non avevano la possibilità di votare, anche per guidare un'auto, fino ai 50 anni, e poi avevano la possibilità di guidare e di votare. Sono venuta perché parlate di un paese che conosco in fondo, che ho condiviso, che ho subito in alcuni casi. Per esempio per me mettere la baia era una costruzione e facevo la ribelle, perciò mi mettevo vestito sotto giallo, lungo fino ai piedi, e tenevo la baia aperta e mio marito si arrabbiava ma lo facevo lo stesso. Mi spiego. Cioè ci sono delle cose per noi donne occidentali che sono difficili da vivere anche. Malgrado, poi sto parlando degli aspetti negativi, ma poi ci sono stati anche altri aspetti invece positivi e anche estremamente interessanti. Perché il confronto con una cultura che comunque è diversa dalla tua è sempre positivo, è sempre arricchente, ti dà sempre qualcosa. metti in discussione anche te stesso, metti in discussione la tua società, in fondo proprio perché è solo nel momento in cui i confronti che vengono in evidenza limiti ma anche e positività della società che vivi tu. Perciò appena ho visto che c'era questa cosa delle donne saudite mi sono precipitata proprio perché ho anche molto a cuore in fondo il ruolo della donna saudita. io trovavo avvilente il fatto di non poter guidare. Io dovevo essere, come si dice, scorrazzata, non so se capite, portata in giro da mio marito e non potevo essere autonoma e questa cosa per me era pesantissima, per esempio. Perciò il fatto che adesso le donne saudite potranno guidare lo trovo meraviglioso e tutti gli articoli che appaiono nei giornali sono miei. Ora la domanda è questa. For example, my son is in your faculty, it is at the Politecnico di Milano, in magistrale, he is in design and so it's very nice for him because he is in contact with a lot of other people from different nationalities and the same it will be for you, I see. Perciò la mia domanda è questa. Lei ha sottolineato che avete ancora facoltà divise e che le avete divise perché così la donna si sente più a suo agio. Per me questo è inconcepibile, lo rispetto, perché for me it's impossible to understand a thing like this, for me it's so natural, it is from when I was a child that I share lessons, school, everything with the other sex, with males. so for me it's impossible to understand this thing, ok? But I respect this, of course. Però la mia domanda è questa, adesso voi siete qui, you are here, ok? And so perciò dovete condividere gli spazi, le lezioni, il lavoro con gli uomini e nel futuro lavorativo voi dovrete condividere spazi, luoghi, funzioni, con gli uomini. Perciò la domanda è A, le domande sono A, come vi trovate qui con questa diversa modalità? How do you feel here with these different modalities? Secondo, se non pensate che almeno all'università, perché magari alle superiori, alle elementari, alle medie, no, ma all'università che ti prepara per il lavoro, se non capite traduco in inglese, va bene, è un po' limitante questa divisione delle due università e se non auspicate, auspicate, if you don't hope that in the future will change, or do you think that it's better in this way? Prima iniziamo con la baia che lei ha parlato di queste cose. Sì, forse questa cosa è diventata ogni donna, come qua, per esempio, ci sono gli evangelisti, no? E ci sono delle persone che seguono uno di loro. noi abbiamo la stessa cosa. Uno ha detto, per esempio, un esempio, non la stessa cosa, ma uno ha detto si deve coprire il viso, uno ha detto no, nel Corano non è scritto che si deve coprire il viso, uno dice no, si deve portare un vestito così lungo, vasto, sì. E poi con la moda, con la tradizione, così, è stata creata questa baia come un vestito nero, così. E poi adesso anche ci sono Dolce in Gabbana che fanno baia per le donne musulmane. E perciò ci sono, per esempio, delle donne che credono che io devo coprire il viso. e quindi è molto, molto faticoso per lei andare ogni giorno in una università con un uomo e deve coprire il viso per tutto il giorno e perciò hanno fatto due università e due scuole, anche le scuole sono separati. Ma, per esempio, ci sono tante aziende in cui lavorano le donne e gli uomini insieme in Arabia Saudita e forse come ministeri statali e così no, ma tante compagnie non c'è problema per questa cosa. Anche, per esempio, per la mia famiglia, questo è molto diverso fra le famiglie e anche fra il sud, nord, ovest, est. Nella mia famiglia, per esempio, io posso vedere le persone, mettermi anche così il velo e stare con gli uomini e non c'è problema se io sto così e perciò per me è molto normale venire qua e studiare o fare le cose con gli uomini. Per me è normale e anche sto e per me non c'è problema ma se le donne in Arabia Saudita sono comode e così non è una cosa da cambiare secondo me. Non ho capito non capito cosa hai detto ma io solo aggiungo la mia esperienza i miei primi sei mesi in Italia non è sull'esistenza dei uomini ma è in generale essere in un pubblico urbano specialmente in Milano usando la metro usando e adesso abbiamo creato la metro e la pubblica transportazione quindi questo è in contrasto con la cultura perché siamo un culturale ma dentro della nostra introversione abbiamo una comunità e connexioni come per esempio per me la mia comunicazione con i ragazzi è meglio che i femali sono più collaborare con i ragazzi perché oggi è il giorno dell'international woman day i femali come la mia è 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 la mia ma se si imporiamo l'unica si diventa stronger so this is a situation so now I'm this is my second year here so now I'm more comfortable even when I'm back home I'm much more confident because it's not easy to be a woman not only in our culture but everywhere everywhere dunque la donna saudita in questi ultimi anni abbiamo visto che ha fatto dei grandi passi sia in campo dell'istruzione che in campo lavorativo e anche in campo della produzione letteraria naturalmente ci sono ancora tanti altri traguardi da raggiungere però noi dobbiamo salutare per esempio con molto piacere il fatto che una donna regista abbia fatto quel film bellissimo Wajda che da noi si è chiamata la bicicletta verde e che ha mostrato un aspetto dell'Arabia Saudita tra l'altro ha mostrato un aspetto dell'Arabia Saudita in Arabia Saudita perché quel film è stato girato proprio nel paese e quindi cose da cambiare certo ci sono ancora forse proprio cambiare certi atteggiamenti maschili che offendono ancora la donna ma questi atteggiamenti possono cambiare solo se l'uomo anche raggiungerà una maggiore istruzione ma anche uno maggiore rispetto imparerà a rispettare la donna e anche perché questo si rifletterà naturalmente sull'educazione dei figli e dei buoni genitori produrranno sicuramente dei figli migliori di quelli che sono stati loro fino ad ora quindi il futuro sicuramente ci sono cose da cambiare però vediamo già i cambiamenti che ci sono stati che non sono pochi. Certo l'immagine che la donna occidentale dà di sé nel mondo arabo nel mondo per esempio saudita in particolare non è sempre un'immagine edificante quindi noi non immaginiamo di aver raggiunto chissà quali obiettivi perché anche nel nostro mondo occidentale nella nostra cultura occidentale c'è la mortificazione della donna se non peggio basta vedere i crimini che succedono soltanto nel nostro paese contro la donna. Quindi come vede... alle volte il maschio saudita vede il lato negativo, vede anche un lato negativo di una occidentalizzazione estrema che teme proprio per la propria donna, teme che la propria donna possa rossomigliare a un modello di donna occidentale che è molto lontano dalla donna araba, dalla donna musulmana e soprattutto che noi abbiamo oggi questo modello preso anche molto dagli Stati Uniti. Cioè non è il modello tradizionale della donna italiana, oggi molte cose noi vediamo che ci siamo lasciati condizionare da un modello culturale diverso anche nel nostro gusto di vedere certi film, di vedere... anche di produrre certi film e sicuramente quindi questa stessa immagine diciamo non sempre positiva viene vista in Arabia Saudita anche un po' temuta forse, quindi non si vuole che la donna saudita tutto sommato assomigli a questo modello di donna occidentale che non è sempre edificante. Facciamo una piccola presentazione sulla visione 2030 del Regno dell'Arabia Saudita. Io sono il dottor Abdelaziz Al-Gharib, addetto culturale del Regno dell'Arabia Saudita e abbiamo con noi il mio collega il dottor Muhammad al-Ghamdi che è ambasciatore e rappresentante del Regno presso la FAO. Quindi iniziamo con la benedizione di Dio. Abbiamo dietro anche una presentazione visiva e c'è anche un Pusculo un libretto sulla visione che è a disposizione. Io mi concentrerò soprattutto sul background storico della visione 2030. La storia molto semplicemente è iniziata nel 1932. Era il primo progetto di Stato come Regno dell'Arabia Saudita e fu allora che venne stabilita la prima visione. Questo ha rappresentato la prima fase della vita odierna del popolo dell'Arabia Saudita. Anche se ovviamente il Regno e le sue origini risalvano al 1750. Ma come uno Stato che ha una visione moderna questo è effettivamente cominciato nel 1932 con la sua fondazione come Regno dell'Arabia Saudita. Prima di questa data il Regno dell'Arabia Saudita era costituito da 25 Stati. Ma non era uno Stato nel senso moderno del termine. Non aveva i cinque pilastri che oggi sappiamo rappresentano per convenzione quelli di uno Stato. ovvero il popolo, la geografia, la sovranità e anche il governo. Ma dal 1932 è diventato uno Stato moderno. E ha proseguito questo Stato fino al 1964 e c'è stata poi una seconda visione. E in quel periodo nel 1964 Era come un qualsiasi Stato in via di sviluppo che aveva bisogno dei programmi delle Nazioni Unite per sviluppare le proprie potenzialità. E così sotto il regno di Re Faisal, le benedizioni di Dio su di lui ovviamente perché è mancato, sono arrivate le Nazioni Unite e hanno messo il primo programma. E così vennero messe le basi per lo sviluppo di una società semplice ancora nelle prime fasi. E questo è stato il primo passo per coinvolgere la seconda metà della società saudita, cioè la donna. E inaugurando innanzitutto le scuole femminili. E mettendo il primo piano quinquennale nel 1970. Questi piani sono proseguiti fin quando non è arrivata l'era della prosperità, quella del petrolio. Qualcuno guarda il petrolio come una benedizione. Ma in realtà il petrolio in una società che è ancora in una fase di sviluppo può essere un elemento di disturbo. Soprattutto quando ci sono dei grandi cambiamenti economici che devono andare di passo con dei cambiamenti culturali. E sono proseguiti questi piani fino al 1994 quando Re Fada ha messo in atto un nuovo piano che è quello della società civile. Che è proseguito fino al 2016 quando sono venuti fuori i primi elementi della nuova visione. Chi non conosce la società saudita potrebbe, tra virgolette, invidiare un po' la presenza di queste risorse. Ma in realtà bisogna tenere in considerazione che siamo anche in una posizione geografica che rappresenta un peso. E che è vicina a molte zone di conflitto e di agitazione. Quindi i programmi di sviluppo non vanno avanti come desiderato normalmente. E adesso siamo arrivati ad una nuova visione che potrebbe evitare alcuni degli errori del passato. Che viene guidata da un principe ereditario giovane. Che è il principe ereditario Muhammad bin Salman. Ed è sotto il monitoraggio e la supervisione di un leader capace e con esperienza che è Re Salman. Ci sono molti elementi ovviamente all'interno di questa visione che verranno affrontati dal Dottor Muhammad. Ma questa visione oggi è al centro del discorso internazionale. perché rappresenta uno Stato nuovo che ha preso sulle proprie spalle il compito di guidare una regione. Quindi questa nuova visione ha come caratteristiche che vuole conservare innanzitutto dei valori fondanti di questo Stato. i valori arabi, i valori islamici e anche dei valori sociali legati a quella società. Però nello stesso tempo ha messo al centro una visione molto forte quella di essere attrattiva per il mondo. Qualcuno chiede voi avete le capacità di essere attrattivi e questo è il sogno, la grande sfida. Le società le società più energiche sono quelle che si prefiggono dei sogni che possono sembrare impossibili. Ma noi in realtà abbiamo sempre avuto delle capacità che erano lì presenti. Qualcuno pensa che l'Arabia Saudita sia solo il petrolio ma noi abbiamo ben al di là del petrolio molte altre cose. risorse naturali e anche solo la posizione. Noi forse siamo l'unico Stato che ha veramente una posizione nel cuore del mondo. Abbiamo un patrimonio archeologico molto antico. può darsi che superi addirittura quello che ha altri paesi. Migliaia di anni di storia. Ma forse c'erano alcuni valori che rappresentavano un ostacolo nei confronti delle spedizioni archeologiche. Adesso con questa nuova visione comincerà ad investire su questo patrimonio archeologico. E la cosa più importante e lo stato più importante su cui noi facciamo affidamento oggi per il patrimonio archeologico come aiuto ed esperienza è l'Italia. Abbiamo molti team o squadre che lavorano abbiamo anche nuovi valori in questa visione. La più importante è la gestione saggia dell'expandition delle spese. Vogliamo spendere dei soldi in modo tale che abbia un ritorno di investimento. L'investimento migliore è sicuramente quello del capitale umano. e anche l'uguaglianza del genere in questo ambito. E per questo nella visione ci sono nuovi campi di lavoro per le donne. Anche nel settore della sicurezza e delle forze armate. Abbiamo anche i valori legati alla conoscenza e come usarla per avere più produttività. vogliamo che tutte le nostre università abbiano la possibilità di investire sullo sviluppo tecnologico. Perché gran parte delle aziende di oggi Facebook Twitter e quindi Facebook e altro si basano comunque su un risultato della creatività. Quindi nella visione c'è anche l'idea di portare queste aziende nel regno attraverso l'utilizzo delle possibilità tecnologiche. Spero che all'interno dell'opuscolo voi possiate trovare anche elementi aggiuntivi. ma non voglio anticipare quello che dirà appunto il mio collega il Dottor Muhammad e cercheremo di rispondere anche ad alcune vostre domande alla fine dopo la fine del discorso del Dottor Muhammad. Grazie per l'ascolto. Buongiorno a tutti. Oggi parlerò della visione dell'Arabia Saudita 2030 per ciò che riguarda l'istruzione. questo è il messaggio del re spero che il nostro paese sia una società di successo e pionieristico nel mondo su tutti i piani e lavorerò con voi affinché venga raggiunto questo obiettivo. Il messaggio invece del principe ereditario che Dio lo protegga è che l'Arabia Saudita rappresenta la dimensione arabo-islamica e una forza economica pionieristica ed è un pilastro del collegamento tra i tre continenti e infatti al punto di incrocio tra l'Asia e l'Africa e l'Europa. Per ciò che riguarda i pilastri della visione per l'istruzione è basata innanzitutto su una società vitale su un'economia fiorente e su una nazione ambiziosa. La società dell'Arabia Saudita è una società giovane. Buongiorno. Sabah al-khir. Vorrei sapere c'è un grossissimo progetto in Arabia Saudita per una città di non so quanti milioni di chilometri quadrati a impatto zero che è parzialmente sicuramente in fase di progetto e non so se ancora in fase di realizzazione e ci ne può parlare e ci può spiegare come è l'impatto zero dal punto di vista energetico? Sì. Ok. Dico l'Ustaz che c'è un grande progetto nella Arabia Saudita che ha un'attività che ha un'attività per il talouis e il chelafo. Hai alcune informazioni su questo progetto? È un'attività che è un progetto abbastanza recente quello che ci sarà nel nord-ovest del regno. Non sarà solo un progetto del regno dell'Arabia Saudita ma coinvolgerà almeno altri tre paesi. E inizierà da una regione nel regno dell'Arabia Saudita che è chiamata Tabuk e al momento è in compartecipazione con la Giordania e l'Egitto. Ma noi abbiamo delle esperienze precedenti di queste città di impatto zero che sono che sono a Yambor e a Yambor che sono state fondate nel 1977. Buongiorno mi chiedevo visto che durante l'introduzione e la presentazione è stato citato lo sviluppo dei rapporti con l'Italia per quanto riguarda il mondo della cultura dell'istruzione e della ricerca in ambito archeologico se dal punto di vista soprattutto universitario e accademico il piano prevede il potenziamento anche dei programmi di scambio di ricerca e l'arrivo in Arabia Saudita con borse o comunque con contatti con università straniere in questo caso italiani anche di centri di ricerca italiani per esempio di ricerca con Ecco, purtroppo forse lei non è passata ieri al padiglione C'era proprio un esempio della cooperazione tra le università italiane e le università dell'Arabia Saudita C'era una presentazione del supervisore del corso intitolato Rea Abdulaziz nell'Università di Bologna Ed è un programma congiunto tra l'Università di Mohammed bin Saud in Arabia Saudita e l'Università di Bologna E viene finanziato completamente dal Regno dell'Arabia Saudita In modo tale da poter usufruire dell'esperienza italiana Abbiamo circa 120 studenti borsisti che studiano nelle più grandi e importanti università italiane E se potessero alzarsi ne vedrebbe qualcuno Le nostre stelle Studiano, fanno i dottorati, i master in ingegneria, medicina E sono forse la dimostrazione più grande della forza del rapporto tra i nostri paesi E abbiamo anche esempi di italiani che insegnano nelle università saudite Io credo personalmente che abbiamo fatto un programma molto importante l'anno scorso E quello che mira a spingere tutti gli studi e le ricerche scientifiche nelle università italiane Che riguardano l'Arabia Saudita E quindi cerchiamo di pubblicarle come pubblicazione che vengono poi presentate Adesso abbiamo un progetto con l'Università della Sapienza Noi siamo ovviamente felici di collaborare con le università italiane E forse ci sono altri programmi che io al momento non ricordo L'Arabia Saudita è un paese enorme e per motivi ovvi estremamente poco conosciuto Ma è interessantissimo come si dà un punto di vista dell'arcologia, del paesaggio e tutto In questo programma di sviluppo è prevista un'apertura verso un turismo internazionale Verso la creazione di poli perché è un potenziale enorme di sviluppo turistico Dal punto di vista turistico? Beh, è uno dei paesi ancora molto poco conosciuti È pieno di cose, paesaggi interessanti, siti archeologici interessanti E poi con tutto questo programma anche di sviluppo di città eccetera È ovviamente fermato da una situazione culturale molto diversa dalla nostra Per cui devo capire se per arrivare a questo sviluppo, a questa apertura prevista da qui al 2030 Da questo punto di vista è quello che poi porta l'apertura come pensano di lavorare Per quanto riguarda il progetto del progetto del progetto del progetto del progetto del progetto? Per quanto riguarda il progetto del progetto del progetto? Per quanto riguarda il progetto del progetto del progetto? Per quanto riguarda il progetto del progetto? Per quanto riguarda il progetto del progetto? È di permettere ai turisti di entrare nel paese con più facilità Di girare liberamente, di godersi i paesaggi o le zone archeologiche Lei ha menzionato prima il progetto Naum che è uno dei più recenti Ma in realtà ci sono comunque delle iniziative che tendono ad aprire maggiormente Il regno dell'Arabia Saudita al settore turistico Il regno accoglie molto volentieri i visitatori Per ora sono dei visitatori che arrivano dai paesi del Consiglio della Cooperazione del Golfo Dai paesi circostanti Ma l'ospitalità del regno dell'Arabia Saudita è ovviamente aperta ad accogliere turisti ed ospiti da tutto il mondo Io non ho una domanda Ma volevo comunicare qualcosa che sentivo Sono rimasto ovviamente io conosco l'Arabia Saudita forse come tanti Cioè non la conosco quasi per niente Però devo dire che c'è stata una cosa che mi ha colpito notevolmente Ed è la vision che loro hanno E soprattutto per alcuni punti Il punto della cultura E poi l'integrazione culturale Col mondo circostante Proprio perché io sono convintissimo che la cultura non ha barriere E mi piace che questo sia nella loro visione Non c'è dubbio che la cultura Rappresenti l'arma principale Per costruire dei rapporti tra paesi E il valore principale della cultura E il fatto che le persone Ad un certo punto scompaiono Quello che rimane sono le società Per questo la cultura rappresenta l'anello di congiunzione Noi oggi siamo qui presenti Alla fiera di Milano Per presentare questa visione Per presentare noi stessi Noi sappiamo che alcune società Avevano paura di camminare insieme a noi Perché hanno dei pregiudizi negativi Determinati da quello che dicono i mass media Ma noi siamo delle persone che amano gli altri Molto anche Grazie Abbiamo cinque minuti ancora a disposizione Buongiorno, grazie per la presentazione Volevo sapere qual è la percentuale Di riscoperta dei valori culturali locali E la percentuale invece Di quello che può portare la cultura occidentale Che si vuole sviluppare Che cosa intende per la percentuale di riscoperta dei valori locali? Questa opera di educazione Sarà più rivolta a riscoprire i valori locali? Oppure a portare altri valori dentro lo Stato? Allora, la questione è E' un'altra cosa? credo dipenda soprattutto da chi conosce o non conosce l'altro noi siamo convinti di conoscere molto bene gli altri ma sono gli altri che non ci conoscono abbastanza quindi credo che il 70% sarà presentare i nostri valori agli altri noi non abbiamo problemi con nessuna società anzi, conosciamo altre società molto bene il problema è che sono le altre società che non ci conoscono abbastanza io credo che la visione attraverso quei periodi io credo che la visione attraverso quei principi rappresentati dal dialogo rappresentati dalla nostra posizione geografica rappresentino soprattutto lo strumento per farci conoscere gli altri anche per ciò che riguarda l'investimento il fine è quello di attrarre gli altri e quindi credo che la percentuale del dialogo con gli altri del farci scoprire alle altre rappresenti il 70% e tra l'altro come dire il merchandising dei valori se lo possiamo chiamare così non è semplice perché ci sono alcuni pregiudizi che sono diventati dei fatti delle opinioni pubbliche ma allo stesso tempo non è neanche molto difficile grazie questo volume alle origini degli arabi un viaggio nell'archeologia dell'Arabia Saudita intende presentare ovviamente in sintesi tutti i risultati delle più recenti missioni archeologiche operanti nel regno dell'Arabia Saudita riprendendo le fila dalle missioni dei primissimi esploratori che hanno attraversato l'Arabia a partire dal 500 fino alle più recenti attività delle missioni internazionali che stanno contribuendo a definire il panorama storico e preistorico dell'Arabia Antica dalle missioni dei primissimi esploratori che hanno attraversato l'Arabia a partire dal 500 fino alle più recenti attività delle missioni internazionali che stanno contribuendo a definire il panorama storico e preistorico dell'Arabia Antica in particolare il volume intende definire le fasi della preistoria dell'Arabia Antica e cioè quando questi vasti territori dell'attuale Arabia Saudita non erano così desertici come oggi ma in realtà erano territori verdeggianti attraversati in maniera capillare da popolazioni di nomadi cacciatori raccoglitori e inoltre indagare ovviamente le fasi di epoca storica cioè il primo millennio avanti Cristo e i secoli precedenti l'avvento dell'Islam quando la penisola arabica era costellata di grandi oasi urbane regni carovanieri che gestivano il commercio delle spezie l'incenso e la mirra prodotti in Arabia Meridionale e esportati verso il mondo mediterraneo e il vicino oriente e quindi ripercorrere anche e mostrare alcuni aspetti peculiari di questi regni carovanieri come i culti la scrittura le pratiche artistiche legate sia a dei sentimenti peculiari dell'Arabia Antica sia a mode e correnti di pensiero che si ispirarono al mondo mediterraneo vicino orientale e quindi mostrare come gli studi della penisola arabica siano finalmente in grado di contestualizzare la forte antichità della penisola arabica all'interno del contesto di studi del vicino oriente antico Grazie a tutti